In questo viaggio a ritroso la prima cosa che incontro è la parola greca della bellezza. Kalos originariamente indica esattamente questo, indica l'improvvisa apparizione di una forma laddove non ci si aspettava di incontrarla. Una forma è apparsa laddove non ci si aspettava che potesse apparire. Questa è la bellezza. Certamente la bellezza non è un oggetto. Noi non ci meravigliamo di un oggetto. Questa non è la vera meraviglia. Ridurre la bellezza a un oggetto, quello che è diventata adesso innanzitutto e per lo più, significa negare la bellezza, significa cancellare la bellezza attraverso l'uso della bellezza stessa. La bellezza ridotta a un oggetto diventa la profanazione della bellezza. Eppure questa illusione è così forte, eppure qualcosa in noi vuole afferrare la bellezza, vuole prenderla, vuole possederla. E in questo modo la bellezza svanisce, si dissolve nelle nostre mani come acqua che scivola tra le nostre dita. E la bellezza non è più per noi. Se la bellezza non è un oggetto allora che cos'è? È una luce, una radura, è un'apertura che improvvisamente si schiude nella nostra vita e ci fa vedere le cose in un modo nuovo. Ecco perché la bellezza è un evento e ci fa vedere anche noi stessi in un modo nuovo. La bellezza è piuttosto una luce che un oggetto, una luce che ci fa vedere tutti gli altri oggetti e gli altri esseri, anche noi stessi. Ecco perché la bellezza è ben al di là di un semplice fenomeno estetico. La bellezza è conoscenza, perché ci fa conoscere noi stessi il mondo in un modo completamente nuovo. La bellezza non è un oggetto perché è un processo. Ecco perché la bellezza è l'opposto della violenza. Dicono che nell'artista vive un'anima del mondo, l'anima del mondo, che agisce. Questa potenza creatrice è la forza che agisce nella vita stessa, che crea il mondo e lo tiene vivo, e che genera le forme della natura e poi le dissolve. L'artista si apre a questo. Perché dietro la bellezza c'è amore. Perché la bellezza nasce da un gesto d'amore, nasce dal gesto che dà forma al nulla creando dal nulla qualche cosa. Succede qualche cosa che apparentemente assomiglia alla bellezza e all'amore, ma in realtà è al suo opposto. La nostra fame di forme, che noi vediamo come degli oggetti opachi, senza riportarli alla loro origine, senza vedere l'amore, senza vedere la fonte da cui tutto questo è scaturito. E la bellezza che noi stringiamo nelle nostre mani, serrando i pugni così avidamente, non è bellezza, ma è soltanto deformità. Eppure questo destino ambiguo dell'immagine, della bellezza, dell'arte, non è un caso. In questo gioco di illusione, in cui l'illusione stessa, giocando con l'illusione, va al di là di sé, uccide se stessa, c'è un organo che è molto importante, ed è l'organo della vista. La bellezza per essenza è legata alla vista, la capacità di vedere. La vista è l'organo di conoscenza più immediata, che ci fa percepire immediatamente la realtà, ce la fa cogliere istantaneamente. Eppure, nonostante questo, la vista comporta un'illusione. Quando Platone parla della conoscenza sovrasensibile, la conoscenza dell'intuizione intellettuale profonda, dell'intelligenza profonda delle cose, parla di qualcosa che va al di là dei sensi, al di là della vista sensibile. Ancora una volta, è la bellezza che ci viene in aiuto. La bellezza, dice Platone, è l'idea che splende di più nel mondo visibile. E al tempo stesso, è proprio nel visibile che splende l'idea, cioè l'essenza che va al di là del visibile. Allora, nella bellezza, splende visibilmente l'essenza dell'invisibile. Nella bellezza splende l'essenza della realtà. Grazie.